Big Mat Mediedil è una rivendita di materiale per la costruzione che si trova a Marsala, in provincia di Trapani. Siamo un punto di riferimento per la nostra gentela formata da imprese, da artigiani, ma anche da privati. Abbiamo dei brand importanti come Keracol, Heidenberg, Leica e anche Poron. La scelta di Heidenberg Materials è nata per offrire ai nostri clienti dei prodotti di qualità e dietro questi prodotti c'è tanta tecnologia. Uno dei prodotti più interessanti di Heidenberg Materials, ad esempio, è Hido Drain, che è un massetto drenante. Nel tempo ovviamente è cambiata molto la domanda del cemento, adesso stiamo spostando più su cementi a base di pozzolanica, nel rispetto appunto dell'ambiente e di normative in essere. Nell'edilizia il concetto di sostenibilità conta davvero e conta tanto. È una strada che è obbligatoria da percorrere, in quanto con il PNRR in corso bisogna rispettare alcuni requisiti che ci obbligano a seguirlo.